Nel Business Model Canvas, il blocco delle attività chiave riveste un ruolo cruciale. Elenca quelle attività strategiche indispensabili per offrire le value proposition, raggiungere e relazionarsi con i clienti, nonché per generare ricavi. Esso stabilisce con chiarezza quelle operazioni imprescindibili che la tua azienda deve eseguire per il successo del suo business. Queste attività si suddividono in tre categorie principali. Le attività produttive, essenziali per le aziende manifatturiere impegnate nella creazione e distribuzione dei loro prodotti. Le attività di problem solving, proprie di modelli di business basati sulla fornitura di servizi, come le aziende di consulenza. E infine, le attività di mantenimento e sviluppo di piattaforme o reti, fondamentali per aziende tecnologiche come Google o Facebook. A seconda del modello di business scelto, le attività variano significativamente, con alcune imprese che investono nel rinnovamento delle infrastrutture e altre che si focalizzano sulla semplificazione dei processi. Ad esempio, un'azienda che produce utensili per il bricolage punterà su attività di ricerca e sviluppo per garantire la semplicità d'uso dei prodotti, nonché sulla creazione di contenuti multimediali e sulla formazione del personale di assistenza per comunicare efficacemente il valore offerto ai clienti. Per compilare correttamente il blocco attività chiave, inserisci soltanto quelle operazioni davvero strategiche, evitando di sovraccaricare il Canvas con attività non essenziali o ripetitive. Queste attività, insieme a risorse chiave e partner chiave, influenzeranno la struttura dei costi aziendale. Una visione d'insieme chiara e ben strutturata è fondamentale non solo per il Canvas, ma anche per i successivi documenti di pianificazione strategica, facilitando la traduzione della teoria in azioni concrete e decisioni operative. Nel Business Model Canvas, il blocco dei partner chiave è essenziale per delineare la rete di collaborazioni e alleanze che sostengono l'impresa nel suo funzionamento. Questo riconosce che un'azienda non è un'entità isolata, ma opera all'interno di un ecosistema imprenditoriale più ampio. Sono infatti i partner esterni a fornire il supporto necessario per concretizzare il modello di business e per ampliare le opportunità di successo nel mercato. Una rete di partner è spesso indispensabile per vari scopi. Dallo sviluppo di economie di scala alla riduzione dei rischi competitivi, passando per l'ottimizzazione delle risorse e l'espansione del mercato. Questi partner possono contribuire anche all'acquisizione di risorse specifiche, alla diffusione del brand e alla scoperta di nuovi clienti. Le forme di partnership possono essere variegate, includendo alleanze strategiche tra aziende non concorrenti o tra concorrenti stessi, e persino joint venture per lo sviluppo di nuovi business. È fondamentale stabilire alleanze robuste che arricchiscano l'offerta aziendale e rispondano a bisogni che l'impresa da sola non potrebbe soddisfare. Poniamo che tu gestisca un'azienda produttrice di utensili per il bricolage. I tuoi partner chiave potrebbero essere i fornitori di componenti, collaboratori nell'innovazione, coinvolti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti ergonomici e facili da usare, nonché le grandi catene di distribuzione con cui collaborare per eventi e promozioni. Per affinare il blocco partner chiave, è cruciale selezionare partner che possano creare sinergie. Prendiamo il caso di Vodafone. La compagnia si appoggia fortemente su una rete di partner per offrire ai clienti gli ultimi dispositivi tecnologici, come smartphone e tablet. Questi produttori diventano partner indispensabili per le compagnie telefoniche, in quanto la vendita di abbonamenti è spesso incentivata dall'accoppiamento con questi dispositivi. In sintesi, il blocco dei partner chiave richiede un'analisi strategica profonda per identificare le sinergie più produttive e sostenere il tuo modello di business in modo efficace. Il blocco della struttura dei costi nel Business Model Canvas è il pilastro che delinea tutti i costi che l'azienda deve affrontare per operare efficacemente nel proprio modello di business. La sua importanza emerge chiaramente solo dopo aver definito i blocchi delle attività chiave, dei partner chiave e delle risorse chiave, perché i costi sono spesso il risultato diretto delle decisioni prese in queste aree. La struttura dei costi può includere costi fissi, che rimangono costanti a prescindere dalla quantità di beni o servizi prodotti, come l'affitto o gli stipendi, e costi variabili, che fluttuano in base al volume di produzione. Esistono poi le economie di scala, vantaggiose per le grandi aziende che possono accedere a condizioni di costo più favorevoli, e le economie di scopo, che si manifestano quando un'operazione si allarga a nuovi ambiti. I modelli di business si distinguono anche in base alla loro focalizzazione, quelli guidati dai costi, come Ryanair, che punta a minimizzare le spese per mantenere la sua promessa di voli low cost, e quelli guidati dal valore, come i grandi nomi della moda, dove la qualità e l'esplosività delle materie prime sono imprescindibili. Prendiamo sempre come esempio l'azienda di utensili per il bricolage. La sua struttura dei costi contemplerebbe sia costi fissi, come quelli legati al personale del servizio clienti, sia costi variabili, legati alla produzione degli utensili. Potrebbe anche trarre vantaggio da un'economia di scopo, applicando brevetti e tecnologie su vari prodotti della sua gamma. Per dettagliare il blocco struttura dei costi, è vitale valutare l'impatto economico di risorse, partner e attività chiave. È fondamentale chiedersi quali posti occupano nella struttura dei costi, se esistono alternative meno onerose o se certi costi sono indispensabili per il risultato desiderato. Un'attenta analisi è essenziale soprattutto quando i costi sono elevati. Bisogna confrontarli con i flussi di ricavi per assicurarsi che il modello di business sia sostenibile. Se i costi superano i ricavi, potrebbe essere necessario rivedere il prezzo del prodotto o servizio, le modalità di pagamento o cercare modi per ottimizzare le risorse. Una pianificazione accurata in questa fase può aiutare a prevenire errori che sarebbero difficili da correggere. Una volta che l'azienda è operativa sul mercato. Prendiamo come esempio il modello di business di Airbnb, un'azienda privata globale che ha rivoluzionato il settore dell'ospitalità, con la sua piattaforma di mercato online. Accessibile sia tramite il sito ufficiale che attraverso un'app, Airbnb permette ai suoi membri di organizzare o offrire alloggi per soggiorni brevi o esperienze turistiche. La piattaforma è pensata per privati che possiedono proprietà da affittare nei 191 paesi in cui Airbnb opera, con oltre 4 milioni di annunci distribuiti in 100.000 città di 191 paesi e regioni. Gli Stati Uniti guidano la lista per numero di annunci, seguiti da Francia e Italia. I segmenti di clientela di Airbnb includono gli host, ovvero i proprietari di immobili che offrono alloggio, e gli ospiti, viaggiatori alla ricerca di un posto dove soggiornare e di un'esperienza memorabile. Le proposte di valore di Airbnb hanno saputo aggiungere significato e attrattiva sia per host che per ospiti, contribuendo al successo dell'azienda. I canali principali attraverso cui Airbnb raggiunge i suoi utenti sono il suo sito web e l'app, supportati da content marketing, copertura mediatica e campagne pubblicitarie e digitali che attraggono host e viaggiatori verso la piattaforma. Per quanto riguarda la relazione con i clienti, Airbnb offre una piattaforma automatizzata, consigli ad hoc e supporto al servizio clienti per garantire un'esperienza utente fluida e soddisfacente. Le entrate di Airbnb derivano principalmente da commissioni sugli host, che variano dal 3% al 5%, e da commissioni sui viaggiatori, che possono andare dallo 0% al 20%. Per quanto riguarda i partner chiave hanno giocato un ruolo fondamentale nel sostegno e nella crescita di Airbnb, contribuendo con innovazioni e progetti che hanno consolidato le fondamenta dell'azienda fin dalle sue fasi iniziali. In conclusione, con la sua quotazione in borsa nel 2020, Airbnb si è proiettata verso una crescita esponenziale puntando a espandere ancora di più la sua offerta di alloggi a livello globale e a catturare l'interesse di persone provenienti da tutto il mondo. Airbnb rappresenta un modello di successo sia per le opportunità di Austin che fornisce, sia per la qualità degli alloggi e delle esperienze offerte ai viaggiatori.